L'Arcivescovo di Trani, Monsignor Leonardo D'Ascenso, ha presentato il programma annuale diocesano tra i progetti resi noti anche quelli della Caritas per far fronte alle povertà della comunità. Sentiamo. Nell'ambito della celebrazione della festa della Chiesa Diocesana, l'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie ha presentato il programma annuale diocesano. In linea con gli orientamenti pastorali generali dei prossimi tre anni, ogni ufficio ha sviluppato per la comunità diversi progetti. Questo primo anno avrà come obiettivo Chiesa povera per i poveri. Come veniva appena ricordato i diversi uffici pastorali della diocesi hanno a partire dalle indicazioni degli orientamenti così messo a punto delle indicazioni per le comunità parrocchiali della diocesi. Oggi rendiamo pubbliche queste indicazioni, questi suggerimenti. Tra i progetti resi noti anche quelli Caritas per far fronte alle povertà, anche quelle emerse a causa del Covid. La Caritas continuerà nella gestione dell'ordinario e quindi nella gestione di tutti quei servizi che già sono noti nelle varie città della nostra diocesi, dormitori, mense, empori, centri d'ascolto, assistenza, accoglienza. Questi sono un po' i servizi che continueremo ancora a gestire. Però per questo nuovo anno pastorale, con le zone pastorali, abbiamo pensato a progetti specifici che soprattutto coinvolgano le comunità nel mettere in pratica gli orientamenti pastorali che come sapete sono tutti dedicati all'attenzione nei confronti dei più poveri. Quello che posso anticipare è che il lavoro che faremo in maniera particolare, facendo un po' una distinzione tra le singole zone a Trani, abbiamo pensato di creare anche a Trani un emporio solidale sul modello di quello che già è stato realizzato a Biceglie. A Biceglie accoglieremo alla fine del mese 13 profughi dei corridoi umanitari in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana e col Ministero degli Interni ed è un progetto che ci occuperà per tutto l'anno. A Barletta sarà incrementata l'attenzione ai poveri che vivono nelle case, quindi non tanto attendere che i poveri arrivino nei nostri centri d'ascolto. Noi stessi che andiamo dai poveri per comprendere le loro esigenze e soprattutto quei poveri che tante volte restano nascosti e che non vogliono magari manifestare la loro situazione di disagio. Accorato implementeremo i centri d'ascolto nella prospettiva anche qui di creare docce e dormitori. E nella zona della Forania, quindi Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando, anche in questo caso l'attenzione ai poveri raggiungendoli nelle loro abitazioni.